SITMI 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 nasce da una posizione raccolta su se stessa in un momento qualsiasi di un attimo di una giornata e la sua silhouette è stata pensata utilizzando l'acciaio porten che può essere cerato come finitura, quindi utilizzato per spazi interni a ricreare angoli saluttini sto continuando la ricerca nella sperimentazione nel possibile utilizzo di nuovi materiali e in collaborazione con aziende modellici